oh 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 uno, due, buoni, tre luce, emozioni e-tip-ti-di-tok e-i-non sono certo dei problemi PICTORA! ti sai il parole? la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! io non sono me lo pinta i parole, cazzo! c'era? vai, rifai, rifai che non te scopo, dai! e non è una finta, andiamo Marco, ti sei brutto è brutto un giorno e due e due e due e due e due e due e di Sì, quando agita e di non sono certo dei problemi E' una ragazza perfetta di una verità E' un sorrisalità di regalare la sua verità Questa è il fiore della vita